Nonostante il lieve calo odierno dei ricoveri scesi complessivamente sotto i 700, l'Abruzzo resta all'interno della lista delle 13 regioni italiane che superano il livello di guardia per le occupazioni di posti letto in terapia intensiva fissato al 30%. Magra consolazione il penultimo posto nella graduatoria capitanata dalla Lombardia al 61% e dalle Marche al 60% con una media italiana poco sopra il 40%. L'Abruzzo è subito dietro il Molise con il 36% dei posti di rianimazione covid occupati. Vero è che i dati sono in miglioramento almeno per quanto riguarda l'indice di trasmissibilità del virus e i nuovi positivi. Dopo un riconteggio rispetto a cifre errate comunicate nei giorni scorsi oggi sono 153 i nuovi positivi al covid-19 emersi dall'analisi di 3935 tamponi molecolari e 2.260 antigenici rapidi con un tasso di positività del 2,5%. In isolamento si trovano attualmente 9.569 persone meno 295. Bene anche le guarigioni che aumentano di 427 e gli attualmente positivi in calo di 302 unità e vicini a tornare sotto la soglia dei 10.000. Il momento fondamentale è proprio questo. Io non faccio che invitare la popolazione e approfitto per fare gli auguri di buona Pasqua a tutti ma di essere super attenti perché questo è il momento cruciale in cui possiamo vincere o perdere la guerra. A livello provinciale la mappa del contagio vede in testa l'Aquilano dove in questa fase si registra il maggior numero di nuovi contagi a seguire il Terramano più staccate le province di Chieti e Pescara segno che le misure restrittive nell'area metropolitana hanno influito nel piegare l'innalzamento della curva. Pesante invece il bilancio delle vittime che sconta anche in questo caso errate o tardate comunicazioni dei giorni scorsi da parte delle ASL. Oggi sono 25 i decessi conteggiati dal bollettino regionale che aggiorna il totale delle vittime da inizio emergenza a 2125.